Queste sono le sale del castellare del Palazzo Ducale di Urbino ed è in corso fino al 6 maggio la mostra, una mostra fotografica, di un autore statunitense, Claude Victor Offrey III. L'autore statunitense che è particolarmente legato all'Italia e alla realtà delle marche della provincia di Pesio di Urbino. Nel marzo del 2011 Offrey si è trattenuto un paio di settimane a Urbino, ha vissuto la città, ha potuto fotografare la città dall'interno del Palazzo Ducale e anche fermare alcuni scorci del Centro Storico Urbinate Patrimonio dell'UNESCO. Era dopo un'abbondante nevicata, non come quella del 2012, che Offrey è arrivato a Urbino e si era a fine primavera un passaggio di stagione, un cambio di luce, un cambio di atmosfere che ha fissato in questa mostra fotografica. Due di queste opere sono in contemporanea anche a New York, in una importante galleria per una mostra collettiva. Offrey, qual è stato l'approccio che ha tenuto? Ha voluto fermare la Urbino contemporanea, fotografare dall'interno del Palazzo Ducale, il titolo della mostra è proprio dalle finestre del Duca, ma ci ha detto, ho girato all'interno della residenza dei Montefeltro pensando a che cosa Federico da Montefeltro e la sua famiglia all'epoca avrebbero potuto vedere guardando dall'interno verso l'esterno. Che cosa è cambiato di giorno in giorno in questi 500 anni? E questo è stato l'elemento suggestivo che ha guidato l'autore, il fotografo, in questa esposizione. E quindi tantissimi colori, tantissime vedute, alcuni aspetti del tutto particolari per una persona che non vive abitualmente a Urbino, che non è italiano, ma che guarda il patrimonio culturale italiano con grandissima curiosità. Questo è quanto fino al 6 di maggio si vede all'interno delle sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino.